In Veneto, l'avete sentito, la situazione resta complicata. Contagi in aumento, ospedali sotto pressione. In diretta l'inviata è Giulia Serenelli. Esatto, li avete sentiti i dati della situazione sanitaria in Veneto. Oltre 4.000 nuovi positivi, ma c'è da dire anche a fronte di oltre 52.000 tamponi effettuati tra molecolari e rapidi. E proprio per evitare un inaspiramento di questa situazione, da domani entrerà in vigore l'ordinanza regionale che vieta la mobilità tra i comuni a partire dalle ore 14. Ordinanza che sarà in vigore fino al 6 gennaio. Dicevamo, la rete ospedaliere sotto pressione, soprattutto a Verona, ma anche Padova è una delle province più colpite. Qui l'azienda ospedaliera ha deciso di aprire le porte, però all'ingresso in terapia intensiva ai familiari delle persone ricoverate. Ce ne parla Ivana Godnik. E' una schizia bella, non deve essere triste. Finora le notizie in merito ai pazienti ricoverati in terapia intensiva positivi al coronavirus venivano date soltanto al telefono, attraverso i tablet. D'ora in poi all'ospedale di Padova hanno deciso che in casi estremi, quando il congiunto contagiato da SARS-CoV-2 è ricoverato in rianimazione in fase terminale, un familiare potrà entrare per dargli l'ultimo saluto. Non si può privare una persona da stare vicino a un proprio caro che sta per lasciare questo mondo. È una cosa che ci impegnerà di più, ma penso che va fatto, non si può negare. Il dottore Eugenio Serra, caporeparto di una delle terapie intensive padovane negli ultimi mesi di drammatici addi a distanza, ne ha vissuti parecchi. Come anche Michela Marca, coordinatrice infermieristica, che in merito all'apertura, alla decisione di concedere l'ultimo saluto in presenza, non ha dubbi. Sarà impegnativo per noi perché dovremo accompagnarli, vestirli, tamponarli, parenti. Quindi c'è una procedura in essere molto impegnativa anche per noi, però siamo disposti perché è giusto che i familiari possano essere vicini, soprattutto nel fine vita.